Non so se sia un segno oppure fantasia oppure realtà o effetto anestesia questo mi domando su di un letto di ospedale sopito e risvegliato da un sonno artificiale ma davanti a tanti volti di impensabile armonia c'è solo da scrutare di che natura sia sarà, 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 sarà chi sei tu o forse no o proprio tu in questa parte del mondo dove tu mi hai chiamato chi sei tu o forse no o proprio tu sarebbe dell'altro mondo in questo mondo giorno dopo giorno, notte dopo notte l'armonia resta tale non c'è niente di banale in questi volti sconosciuti che si curano di me con immensa dedizione che non è di questo mondo ma che è segno di qualcuno che va sempre a me vicino qual è la pena essere qui perché tutto prende forma perché, 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 perché ci sei tu, ci sei tu, ci sei tu, ci sei tu in questa parte del mondo dove tu mi hai chiamato ci sei tu, ci sei tu, ci sei tu, cosa dell'altro mondo in questo mondo più nulla mi distoglia da sentirti a me vicino vale la pena essere qui su di un letto di ospedale perché desidero guardare come son guardato io con ineffabile armonia propria di una sinfonia pur di rivedere te e restare insieme a te e la gioia nel dolore tutto chiede un senso perché, 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 perché ci sei tu, ci sei tu, ci sei tu in questa parte del mondo dove tu mi hai chiamato dove tu mi hai chiamato ci sei tu, ci sei tu, ci sei tu dove è possibile incontrarti e sentirti a me vicino e sentirti a me vicino e sentirti a me vicino